Si chiama Marisa ed è un'agnellina nata libera e tale resterà proprio pochi giorni prima di Pasqua nel rifugio AgriPunk di Ambra. I genitori vengono da un sequestro qui vicino per maltrattamento e purtroppo sono tra i pochi sopravvissuti, quindi è anche bello che sia nata Marisa. Si tratta di una fattoria del tutto speciale, 25 ettari tra campi e capannoni a disposizione di un centinaio di animali di ogni specie, galline, mucche, tori, pecore, capre, conigli e anche cinghiali come Pablo. Qui infatti tutti hanno un nome e una storia in comune, sono stati tutti salvati da allevamenti, macelli, abbandoni e maltrattamenti. Perché c'è un sistema e una mentalità che sfrutta letteralmente la pelle di altre persone, di altre specie e ci si sente davanti impotenti davanti a tutto questo, partendo dal diventare prima vegetariana, poi vegana, poi altre forme di attivismo. AgriPunk è nata nel 2015 da un allevamento intensivo di tacchini. C'è avere la possibilità di poter far chiudere un allevamento e di tenerlo chiuso, era forte e forte anche la necessità di questi spazi, ridarli in parte alla natura che circonda questo podere e in parte appunto a alcune soggettività che si riescono a tirar fuori da questo sistema. Un rifugio antispecista che più volte nel corso degli anni però si è scontrato con non poche difficoltà dal rischio di sfratto alla necessità di autofinanziarsi. Non producendo nessun reddito da loro, non sfruttandoli in nessun modo, non abbiamo ovviamente le entrate che ha un allevatore e non abbiamo nemmeno tutta la parte di aiuti, sovvenzioni e finanziamenti che ha invece il settore dell'allevamento. E quindi ci basiamo appunto sul volontariato e sulle donazioni delle persone e facciamo appunto eventi, iniziative varie per mandare avanti questo posto. No, 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 non entra al punto.